Tre anni fa ho conosciuto una persona e subito dal primo impatto mi ha affascinato con i suoi modi garbati e decisi. La nostra relazione è stata subito una tempesta di attenzioni e piccoli regali ma andando avanti nel tempo sono cominciate le discussioni e poi le litigate sempre più frequenti e violente per ogni mio comportamento che veniva sempre travisato. Ti giuro che nonostante questo è stato difficile uscire da questa relazione. Una parte di me voleva scappare lontano ma un'altra parte voleva restare. Dopo questa esperienza ho deciso di prestare più attenzione alle persone che mi si presentavano davanti anche se ho difficoltà ancora ad iniziare una nuova relazione per la paura di ricadere nella stessa tipologia di uomo. Vorrei sapere come fare a riconoscere se dietro a quegli atteggiamenti gentili si cela un'altra persona ossia quella che tu hai definito il narciso manipolatore maligno. Cara Roberta, spesso al primo impatto con un narciso vieni ammagliata per i suoi modi garbati e decisi ed è in dubbio che sappiano essere molto affascinanti. Mi chiedi come fare a riconoscere se si è innamorati di un narcisista. È possibile riconoscere un narciso se ha alcune di queste caratteristiche. La prima è incapace di accettare i propri errori ed ha problemi ad ammettere di avere sbagliato. Il colpevole è sempre qualcun altro, l'amico, il collega, il tempo, la società, il mondo, gli alieni, tu, sempre tutte tranne lui. Il secondo si adopera con tutti i mezzi possibili per convincere ad essere tu quella che ha sbagliato. Per quanto ti ama sarai sempre tu quella che finisce col sentirsi male. Il terzo atteggiamento su cui devi prestare attenzione è la sua gelosia. Non finisce mai. Prova invidia per tutto ciò che non può avere. Persino il dettaglio più piccolo lo fa infuriare il tuo amato narcisista quando ti vede con un'altra persona, maschio o femmina che sia. Non è in grado di accettare che tu possa avere interessi e altre persone più importanti nella vita oltre a lui. La sua gelosia porterà la relazione al limite. Il quarto punto su cui prestare attenzione sta nel fatto che i tuoi pensieri vengono usati per ferirti. Manipola sempre la conversazione. Una conversazione sana così come una corretta relazione è un continuo dare e ricevere. Presta attenzione a quante volte la tua dolce metà ti permette di esprimere le tue idee e le approva. Oppure è solo il suo pensiero ad essere importante. Il narcisista pensa di essere l'unico intelligente e ti fa sentire come se tutto ciò che dici è sbagliato. Ogni volta che parli con un narcisista finisci per pensare che le tue opinioni non valgono niente. Non c'è niente di più spiacevole per il narcisista di ascoltare la propria voce. Il problema non sta nel fatto che non ti dà la possibilità di parlare ma nel fatto che non puoi mai esprimerti e che le tue idee vengono sempre e costantemente bocciate. L'ultimo punto è che il narcisista si crede perfetto se paragonato ad altri. Spesso la bellezza è associata al narcisismo. Questo non significa che se siete innamorati di una persona piacevole e presente questa sia un narcisista. Anzi un narcisista ha un'idea di se stesso ben superiore a quella che deve avere. Di solito sfoggia un'immagine di perfezione e sicurezza ma dentro predomina una bassa autostima. Se hai ottenuto 5 sì è molto probabile che stai con un narcisista. Non importa se il tuo consiente intellettivo superiore al suo né quante volte riuscite a dimostrargli i suoi errori. Ti vedrai sempre sminuire e non ti mostrerà mai gratitudine in quanto è un sentimento che non gli appartiene. Ti farà sentire inadeguata in ogni occasione come se tutto ciò che fai o dai non è mai abbastanza. A poco a poco ti ritroverai senza energie e la relazione diventerà un peso. Finirai con l'essere infelice e sentirai che è stata solo una perdita di tempo. Cari amiche, per chiudere vi invito a riflettere sulle cose che vi ho appena detto e su che senso ha una relazione se il vostro partner vi dice le cose molto bruscamente e sembra provare piacere nel farvi del male. Se vi ricorda sempre i vostri errori e dimentica i suoi. Se non vi lusinga mai per qualcosa che avete fatto bene ma ingigantisce ogni vostro errore e non sarà mai soddisfatto di voi. In conclusione il narcisista non cambia e non cambierà mai perché si considera perfetto. E' inutile sperare che cambi per te perché non lo farà mai per niente e per nessuno. Spero di avervi dato informazioni utili e se avete altre domande sul narciso manipolatore e sull'ipnosi vi invito a inviare un'email all'indirizzo che vedete in sopraimpressione.